Volley, Coppa Italia, definiti i quarti di finale, sentiamo Maurizio Colantoni. Dopo gli spunti e la grande qualità di gioco dell'ultima Supercoppa italiana, trofeo che ha aperto la stagione e che ha consegnato la prima vittoria assoluta a Perugia in casa dei campioni d'Italia di Civitanova, tra sette giorni le sfide dei quarti di Coppa Italia disegneranno il percorso verso la Final Four del 27 e 28 gennaio 2018. Un titolo che detiene la Lube Civitanova, squadra che anche quest'anno potrà contare sulle giocate da fuoriclasse di Osmani Guantorene e Svetan Sovolo. Per provare a ribadire il trofeo dovrà però prevalere nella gara secca con Ravenna che nel frattempo ha superato in trasferta Fibo Valencia. Galvanizzata appunto dal successo in Supercoppa, la squadra di Lorenzo Bernardi si è rinforzata con l'arrivo del libero della nazionale Max Collage e con alcune certezze. In regia Luciano De Cecco, in attacco Alec Adanasievic e Ivan Zeiser. Nei quarti Perugia affronterà la sorpresa Padova, reduce dal successo fuori casa su Piacenza. E poi Modena di Bruno e Sabi che in un vero big match troverà Verona che ha eliminato Milano dell'ex Andrea Gianni. Infine Trento, quarta in Supercoppa, battuta proprio da Modena, incrocerà Monza come l'anno scorso nei quarti di Coppa e di playoff che si è liberata senza perdere un set di Latina. Intanto nel weekend prenderà il via la Superlega.